Luca Onestini Luca Onestini, segno del destino su Ivana, botta e risposta damore con la Mrazova Luca Onestini, le parole su Ivana, botta e risposta damore con la modella. Forse il destino aveva già scritto tutto. O almeno è ciò che pensa Luca Onestini. L'ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex beffino della seconda edizione del reality più spiato d'Italia, da poco si è tuffato nelle braccia di Ivana Mrazova, allacciando una love story tanto annunciata quanto sponsorizzata da migliaia di fan del Grande Fratello Vip. Ieri 11 febbraio, il giovane bolognese ha voluto rimembrare qual è stato il primo tassello d'amore apparecchiato dalla sorte, che lo ha spinto ad abbandonare il vecchio sentiero sentimentale, quello percorso con soleil sorghe e con tanto di polemica al seguito dopo la rottura in mondo visione e a camminare su una nuova strada, quella calcata insieme alla modella cieca. E la data scelta per il messaggio postato per la sua dolce metà non è stata una casualità e Luca Onestini, il messaggio per Ivana, 5 mesi fa le nostre mani si schioravano per la prima volta, Lamrazova e risponde 11 e 5 mesi fa le nostre mani si schioravano per la prima volta. La frase l'ha scritta Onestini a corredo di un breve video postato sulle stories di Instagram, dove ha mostrato un breve filmato di quando, esattamente 5 mesi fa, lui e Lamrazova entravano per mano nella casa del Grande Fratello Vip. Certo all'epoca entrambi non avrebbero mai pensato che sarebbe andata a finire in questo modo. Anche perché l'uno aveva una salda, almeno ciò sembrava, relazione con soleil, mentre l'altra sottolineava come fuori dal reality un cavaliere tenuto lontano dai riflettori l'aspettava a braccia aperte. Ma il destino a quanto pare già aveva fatto la sua prima mossa. Il resto lo conosciamo tutti. Finito il reality i due giovani si sono messi insieme e pare che l'amore li stia travolgendo. Dopo la dedica zuccherosa del bolognese, infatti, Ivana non ha tardato a rispondere, postando una foto sulle Instagram stories e scrivendo, cinque mesi fa. Qua ho trovato la mia felicità. Luca Ivana, l'amore ai tempi del grande fratello Vip. L'ultima edizione del grande fratello Vip ha riservato dei veri e propri fuochi d'artificio in termini sentimentali. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, con tanto di can-can mediatico per la rottura dell'Argentina con Monte, hanno messo le ali della passione, e la rottura tra Luca e Soleil, che ha lasciato libero Onestini di corteggiare Ivana e conquistarla dopo l'uscita dalla casa, ha riservato un'altra grande sorpresa. Entrambe le coppie viaggiano a gonfie vele, nonostante qualche voce continui a sobillare aree di crisi e artifici d'amore.